Di Scarfoni e di Basso, Iona e Cioppi nella prima posizione a 28 secondi, Evans a 40 secondi, Basso, Nibali e Scarfoni. Questa è la situazione all'ultimo rilevamento cronometrico quando mancano qualche centinaia di metri. Attenzione quindi all'azione di Cioppi, ma attenzione perché agli 800 metri va a passare a transitare Michele e Scarfoni. A ruota, Iona e Basso, sono rimasti da soli i due positivi in cerca di rifugire il gap. Prima di tutto tra loro e Cadelema, se poi su, Iona e Cioppi, Iona e Cioppi a 350 metri. Attenzione, questa è l'ultimo centinaia di metri, attenzione di Iona e Cioppi, ma attenzione di Cadelema, a 300 uomini a Cadelema, che non vogliono e rispondono a 9, di Diva e la faccia e non vogliono. Se mi chiede, Cadelema e le difficoltà di Cadelema. posizioni di spalle di ritardi questa mattina Ivan Emasso e Maglia Rosa a soli 51 secondi Siamo solo con la telecamera stura della gaffa La maglia della dimostra è qui che se ne torna L'esplorio è il cioccolto Siamo con la telecamera stura della gaffa